Buongiorno, benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti. L'obiettivo di oggi è quello di iniziare a capire come funziona l'incapsulamento, qual è il supporto sintattico che il linguaggio ci può dare e cos'è il concetto di scope, quindi di contesto in cui possono operare, in cui è possibile vedere e avere la visione degli elementi. Allora, innanzitutto, quando parliamo di incapsulamento, parliamo sostanzialmente di visibilità, per cui in Java, nel linguaggio Java, sono definiti due particolari modificatori di visibilità che possono essere applicati ai membri di una classe. I membri della classe, vi ricordo, sono i costruttori, gli attributi e i metodi. I due modificatori sono private e public, che permettono di rendere, per l'appunto, privato e quindi visibile soltanto agli oggetti della stessa classe, o pubblico, quindi visibile a tutti, uno dei membri della classe. Attenzione, vi ricordo che, a differenza di quanto uno potrebbe aspettarsi pensando al concetto di incapsulamento, l'incapsulamento in Java, ma questo funziona in tutti i linguaggi di programmazione nello stesso modo, si applica sostanzialmente a livello di classe. Quindi due oggetti della stessa classe possono vedere gli attributi l'uno dell'altro. Come funziona? Se prendiamo l'esempio classe che avevamo iniziato a vedere precedentemente, nella classe car, se noi mettiamo public l'attributo color, chiunque, dal programma main o da un'altra classe, può accedere all'attributo color semplicemente avendo a disposizione un riferimento di tipo car. Se invece andiamo a definire l'attributo color come privato, non è possibile accedere direttamente all'attributo tramite un riferimento. È necessario passare attraverso un metodo, ad esempio il metodo paint che avevamo già definito nella classe di partenza. Quindi io per poter andare a definire il colore di un'auto devo utilizzare il metodo paint e non posso accedere direttamente tramite il riferimento all'attributo. Quindi in generale tutto ciò che è privato in una classe non è accessibile dall'esterno, tutto ciò che è pubblico invece è tranquillamente accessibile. Per cui per riepilogare noi abbiamo membri privati e pubblici. I membri privati sono accessibili soltanto da metodi che stanno nella stessa classe e non da altri metodi. I membri pubblici sono accessibili invece da chiunque, sia metodi che stanno nella stessa classe che metodi che stanno in in un'altra classe. A questo punto è chiaro che questa distinzione tra privato e pubblico serve per andare a rendere operativa e quindi dare un supporto all'interno del linguaggio a quello che sono i principi di incapsulamento. Per questo motivo normalmente nel linguaggio di programmazione ad oggetti quello che si fa è di andare a definire dei metodi che si chiamano getter e setter che hanno per l'appunto il compito di leggere get e scrivere set i valori degli attributi che normalmente devono essere privati. Quindi per rispettare l'incapsulamento noi tendenzialmente mettiamo tutti gli attributi come privati quindi visibili soltanto all'interno della stessa classe. Per cui ad esempio per l'attributo color che abbiamo visto prima è possibile mettere un metodo get color, metodo setter che restituisce il valore di color e un metodo set color che accetta un valore e definisce un nuovo valore per color. Adesso proviamo a ragionare in termini di un esempio molto semplice quindi immaginiamo due classi studente ed esame dove la classe studente ha tre attributi immaginiamo di iniziare a definirli pubblici quindi senza alcun supporto di getter e setter quindi abbiamo nome, cognome e matricola e un costruttore che probabilmente le inizializza. Per quanto riguarda invece la classe esame abbiamo un attributo che è il voto e poi un altro attributo che è un riferimento a uno studente quindi è lo studente a cui è stato dato quel voto per l'esame. Volendo rappresentare questa struttura tramite un diagramma delle classi abbiamo la classe esame e la classe studente. Uno studente può potenzialmente avere tanti esami, un esame sostanzialmente è legato tramite quell'attributo studente che qui andiamo a rappresentare tramite un'associazione a un solo studente. Per cui se noi dobbiamo andare a definire il voto per uno studente dobbiamo andare a definire lo studente in questo caso Alice Green che ha matricola 1.234, un nuovo esame che ha come voto 30 e poi andiamo ad assegnare l'esame allo studente quindi sostanzialmente andiamo a impostare l'attributo student dell'esame uguale a S quindi ricordatevi che qui stiamo copiando il valore del riferimento non è una copia dell'oggetto ma è una copia del riferimento quindi sostanzialmente l'attributo student all'interno dell'oggetto E punterà all'oggetto lo stesso oggetto a cui punta la variabile locale S di questo name. A questo punto per andare a stampare il voto andrò a stampare il voto e il cognome dello studente o della studenta. Per capire come funziona lo scambio di messaggi, invocazioni di metodi in questo caso usiamo un diagramma che si chiama diagramma di sequenza che è uno dei tanti diagrammi che sono messi a disposizione dalla notazione UML sostanzialmente abbiamo queste linee verticali che rappresentano la vita degli oggetti e gli oggetti sono rappresentati da questi rettangoli che troviamo in cima per cui abbiamo main che in realtà non è un vero e proprio oggetto, è l'intente, il cliente degli altri oggetti l'oggetto esame è l'oggetto Alice che cosa fa il main? Innanzitutto crea Alice, poi crea un esame dopodiché scrive l'attributo student dell'esame e poi per stampare le informazioni legge l'attributo grade e poi legge il cognome di Alice come vedete main in questo caso deve necessariamente andare a accedere agli elementi interni di questi due oggetti e deve conoscere la struttura una soluzione alternativa è quella di utilizzare dei metodi getter e setter che permettono di sostanzialmente andare a nascondere questi dettagli per cui abbiamo una situazione analoga a quella precedente in cui per fare la stessa operazione, quindi stampare il voto dato alla studentessa Alice noi creiamo i due oggetti esattamente come prima dopodiché utilizziamo un metodo setter per andare a settare lo studente dell'esame e dopodiché andiamo a chiamare un metodo che si chiama print quindi invece di andare ad accedere agli attributi noi utilizziamo un metodo che si occupa di gestire gli aspetti interni dell'oggetto che si chiama esame in questo caso in particolare se vogliamo andare a presentare la nuova struttura dati usando un diagramma delle classi UML quello che otteniamo è oltre agli attributi che avevamo prima il metodo setstudent dell'esame che permette di andare a impostare uno studente un metodo print e un metodo toString che vediamo adesso come può essere utilizzato quindi torniamo a un diagramma di sequenza esattamente analogo a quello precedente le prime due operazioni che vengono fatte sono quelle di andare a creare lo studente Alice e l'esame relativo dopodiché viene chiamato il metodo setstudent qui c'è un int ma in realtà dovrebbe essere un oggetto di tipo studente e poi viene chiamato il metodo print il metodo print sostanzialmente che cosa fa? stamperà il voto dell'esame e poi invece di andare ad accedere al nome o cognome di Alice chiamerà il metodo toString dell'oggetto Alice quindi sostanzialmente che cosa succede? succede che invece di andare ad accedere agli elementi interni che a questo punto sono privati utilizziamo dei metodi un metodo setter qui il metodo print e il metodo toString che permettono di sostanzialmente estrarre le informazioni senza accedere direttamente agli attributi a questo punto come andiamo a scrivere la classe esame? la classe esame sarà fatta in questo modo il voto e lo studente sono entrambi privati quindi non è possibile accedere direttamente abbiamo il nostro metodo setter che ovviamente è pubblico se fosse privato non avremmo nessun modo di accedere al valore e il metodo print che sostanzialmente stampa studente a studente chiede di ottenere il valore toString e ha ottenuto il voto quindi il metodo print sostanzialmente accede al proprio attributo grade e poi delega all'oggetto studente di costruire una rappresentazione di se stesso in termini di una stringa e come lo può fare? nel caso più semplice questa è la classe studente dove tutti gli attributi sono privati il metodo toString è pubblico e che cosa fa il metodo toString? stampa il nome, spazio, il cognome, spazio e la matricola quindi in questo modo viene costruito una stringa che è la concatenazione di questi elementi che verrà poi utilizzata qui all'interno del metodo print per andare a stampare le informazioni relative al voto dello studente che verrà poi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è necessario che main conosca il dettaglio interno del fatto che esiste un riferimento che si chiama student, non deve conoscere i nomi e cognome, eccetera, come nomi di attributi che stanno dentro la classe studente. E sostanzialmente quindi viene sfruttato quello che è il principio di delega. Noi deleghiamo a un oggetto l'accesso e l'elaborazione dei propri attributi. Ad esempio, il metodo toString permette di andare a costruire una rappresentazione stringa dello studente senza conoscere i dettagli, quindi io chiamo il metodo e poi il metodo andrà ad accedere a tutti gli attributi necessari per andare a costruire questa rappresentazione stringa. In generale, poi, è più comprensibile perché questi metodi a cui io delego delle operazioni anche eventualmente complicate, invece di accedere direttamente agli attributi, possono avere dei nomi significativi. Quindi, quindi, set student è molto più chiaro rispetto a dire e.student uguale o println di e.student.last. Quindi, ci sono dei vantaggi che riguardano una maggior leggibilità e soprattutto la possibilità di andare a far evolvere facilmente le nostre classi senza andare a influenzare in alcun modo i loro utilizzatori. Quali sono i vantaggi in particolare di utilizzare dei metodi getter e setter? I metodi getter permettono di cambiare tranquillamente la rappresentazione interna, quindi io posso rappresentare nome, cognome, matricola separatamente, piuttosto che metterli tutti in un'unica stringa già dall'inizio, senza fare alcuna modifica. Quindi, passo da uno all'altro e gli utilizzatori, che continueranno a passare attraverso il metodo getter, non avranno, non osserveranno nessuna modifica. I metodi setter permettono invece di andare a fare dei controlli prima di andare a scrivere i valori. Se non utilizzo il metodo setter ma do l'accessibilità agli attributi, questi attributi potenzialmente possono essere scritti in qualunque modo, con qualunque valore, anche con valori che non sono validi. Immaginate il metodo setcolor o paint che abbiamo visto dentro la classe car, potrei fare un controllo su quelli che sono i nomi di colori validi, invece di permettere di scrivere direttamente una qualunque stringa, senza alcun controllo. Quindi, a livello di classe, noi abbiamo la possibilità di andare a regolare la visibilità e l'approccio standard è quello di andare a mettere privati tutti gli attributi e pubblici i metodi che permettono di accedere. Ovviamente ci sono piccole varianti a queste regole, però questa è la regola generale. Le varianti si fanno di volta in volta, normalmente avendo dei buoni motivi per farlo. Oltre alle classi, in Java esiste un altro livello, che è quello dei package, che permette di andare a definire un livello di modularizzazione un po' più esteso. E ovviamente anche a questo livello abbiamo i concetti di incapsulamento e di information hiding. Quindi, la classe è un ottimo meccanismo di incapsulamento, ma spesso, quando abbiamo a che fare con problemi complessi, abbiamo necessità di avere molte classi. Per questo motivo, il concetto di package è stato introdotto in Java. In C, non essendoci un concetto oltre quello del file, molto spesso quello che si fa è di andare a suddividere in cartelle o folder i vari file. Ecco, in Java questo meccanismo sostanzialmente è stato standardizzato a livello di classi e di sintassi specifica. Quindi un package in Java sostanzialmente è un insieme di classi che sono coese tra di loro e servono a uno scopo che è sostanzialmente unico. Normalmente, a un package corrisponde una cartella su un file system in cui sono mezze tutte le classi che fanno parte del package. Quindi non c'è semplicemente una rappresentazione a livello di file system, ma c'è anche un corrispondente elemento sintattico a livello di linguaggio. Come dicevo, il package può anche giocare un ruolo di contesto e quindi andare a consentire o limitare la visibilità alle classi che stanno al suo interno. Quindi, normalmente, l'idea è che io posso tranquillamente accedere a tutte le classi che stanno nel mio package e poi ho dei limiti per accedere a classi che stanno in un altro package. Il fatto che un package rappresenti uno scope, inoltre, mi permette di andare a definire classi che hanno esattamente lo stesso nome in package diversi. Quindi, come posso definire variabili che hanno lo stesso nome in funzioni diverse? Esattamente allo stesso modo, qui ho classi che hanno lo stesso nome purché stiano in package diversi. Qual è il nome di un package? Normalmente, il package mi dà un nome specifico e la convenzione è molto spesso quella di utilizzare i nomi internet in senso inverso, per cui i package che dovrebbero essere definiti, ad esempio, nel contesto del Politecnico di Torino, ragionevolmente dovrebbero chiamarsi it.polito. eccetera, eccetera, eccetera. Le classi base del linguaggio Java, ad esempio, si trovano in un package che si chiama java.lang. Non segue questa convenzione perché sono gli elementi basi del linguaggio. Quindi, la classe string, la classe system, che abbiamo già visto in alcuni esempi, si trovano dentro un package che si chiama java.lang. Abbiamo tanti altri esempi di classi che vengono suddivise all'interno di package e ogni package contiene un insieme di classi che sono coerenti tra di loro. Come facciamo a definire una classe, scusate, un package? Lo definiamo andando a mettere tutte le classi all'interno dello stesso cartella, cartella che deve avere lo stesso nome del package e soprattutto, in cima a ogni classe, andiamo a dichiarare il nome del package a cui la classe appartiene. Come faccio a utilizzare un package, una classe che sta in un package? Di solito devo andare a fare un'operazione di import. Nome del package.nome della classe. Questo importa una classe che sta in un altro package. Se io ho bisogno di utilizzare tante classi che stanno nello stesso package, quello che posso fare è utilizzare questa notazione abbreviata. Quindi, ad esempio, java.awwt.asterisco importa tutte le classi che stanno nel package java.awwt. Le due alternative sono uguali, quindi io posso andare a elencare classe per classe tutte quelle che mi servono, oppure importare tutte le classi che stanno in un package. Una volta fatto l'import, il nome di quella classe è utilizzabile esattamente come se fosse stato definito all'interno del package corrente. Quindi, prima devo fare l'import, dopodiché ho a disposizione tutte queste classi. Avrete notato che nel caso della classe string, che abbiamo usato in diversi esempi, non ho fatto nessun import. Perché? Perché tutte le classi che stanno nel package java.lang, che contiene, come dicevo, classi fondamentali del linguaggio java, sono automaticamente importati, quindi è come se ci fosse un import java.lang.asterisco all'inizio di ogni classe. E questo per semplificare la vita a chi deve scrivere programmi senza obbligare a importare tutte le volte le classi di base. Quindi, per accedere a una classe che stanno in un altro package, io posso far riferimento al suo nome completo. Il nome completo di una classe è il nome completo del package.il nome della classe. Quindi, ad esempio, per chiamare il metodo readint della classe console, che si trova nel package mypackage, posso utilizzare questa scrittura. Questa è un'alternativa a fare un'operazione di import. Quindi, o uso questa annotazione estesa, oppure faccio un import mypackage.console, e quindi a questo punto posso omettere il nome completo. Questo nome completo è quello che si chiama il fully qualified name, cioè il nome completo di una classe, che include, come dicevo, il nome del package.il nome della classe. Questa annotazione di accesso esplicito a una classe dentro un package è utile se io mi trovo, ad esempio, a dover utilizzare due classi che hanno lo stesso nome e che si trovano in due package distinti. Non succede spesso, ma, ad esempio, questo avviene per la classe date che si trova nel package java.sql e la classe date che invece si trova nel package di default. Per cui io posso utilizzare java.util.date direttamente andando a specificare il suo nome completo, quindi java.util.il nome della classe. Ovviamente non posso fare due import perché a questo punto i due nomi andrebbero in conflitto. Quindi un date, quello che si trova in java.sql, lo importo, l'altro date lo uso facendo uso del suo nome completo, il fully qualified name. Negli esempi base che abbiamo visto non abbiamo specificato alcun package e quello è il caso in cui java utilizza quel che si chiama il package default, cioè un package che non ha nessun nome. Se avete notato, anche in Eclipse, quando noi andiamo a creare una classe senza specificare il package, viene messo default package. Nelle classi del package default possono ovviamente accedere a qualunque altra classe, ma è impossibile che classi esterne al package default accedano alle classi che si trovano in questo package. Perché? Perché non ha un nome e quindi non posso fare un import. Non posso fare un import default package perché default package non è un nome vero e proprio, è un'etichetta che noi abbiamo utilizzato per fare riferimento a questo package. Per questo motivo, cioè il fatto che non è possibile accedere a queste classi, normalmente l'uso del package default è qualcosa che è scoraggiato e viene dato un warning normalmente durante la creazione. A questo punto, come possiamo utilizzare i package per andare a definire un incapsulamento più di alto livello rispetto a quello che abbiamo nelle classi? Questo lo facciamo andando ad utilizzare sostanzialmente i nomi che abbiamo in un altro contesto. Possiamo fare un import, ma gli elementi che stanno all'esterno di una classe possono anche essere più o meno visibili. Quindi, se noi pensiamo a un package che contiene due classi, le classi che stanno all'interno del package usano le regole di visibilità normali. Quindi, una funzione che si trova nella classe A potrà accedere a un membro pubblico della classe B, ma non potrà accedere a un membro pubblico della stessa classe. Inoltre, ci sono delle regole ben precise che estendono queste che si applicano a classi che stanno in package diversi. Quindi io devo andare per ogni classe a definire qual è la sua visibilità, ovvero come è visibile all'esterno del package in cui si trova, in cui è definita. Per cui ho sostanzialmente le classi pubbliche, che quindi sono classi che sono visibili all'esterno del package, quindi il concetto di public ha lo stesso significato del public applicato ai membri di una classe, solo che si applica a una classe che sta dentro un package. In maniera analoga posso avere un private class. Se non scrivo nulla, quindi scrivo semplicemente una dichiarazione di classe senza public prima, questa classe è sostanzialmente visibile soltanto alle altre classi che si trovano nello stesso package. Quindi quando manca il modificatore di visibilità per una classe, questa si dice che ha una visibilità di package. Ora, vediamo l'ultimo esempio, private class A. In Java questa scrittura è illegale. Perché? Perché significa che sostanzialmente la classe è visibile soltanto a se stessa. E quindi a questo punto nessun'altra classe potrebbe utilizzare i metodi o gli attributi di questa classe. Quindi è una classe sostanzialmente racchiusa in se stessa. Per cui non avrebbe senso andare a definire una classe di questo tipo. Come funziona l'visibilità tra package diversi? Allora, se io vado a definire delle classi A e B che si trovano nel package P, queste, come vedete, non hanno nessuno specificatore di visibilità, quindi implicitamente si intende che queste hanno una visibilità di package, cioè sono visibili soltanto all'interno del package P. Quindi una terza classe C che si trova nel package Q non potrà in alcun modo accedere a queste classi. Se invece vado a impostare la classe A come pubblica, allora questa classe è visibile non soltanto nel package P, ma anche all'esterno. Ovviamente, perché la classe C che si trova nel package Q possa accedere alla classe A, deve anche effettuare un import. Solo che l'import nel caso della classe B non funziona, perché la classe B ha una visibilità di package, quindi limitata soltanto al package P, e quindi non potrà essere importata all'interno di una classe che sta nel package Q, che è diverso. Quindi, riepilogando, le regole sono le seguenti. Quando abbiamo un membro privato, questo, comunque sia la visibilità della classe in cui si trova, è visibile soltanto a metodi che stanno nella stessa classe. Quando abbiamo un membro che ha una visibilità di package, cioè non metto alcuno specificatore, né pubblico né privato, questo è visibile da metodi che stanno nella stessa classe, ovviamente, ma anche metodi che stanno in altre classi dello stesso package. Quindi, se io non metto né pubblico né privato davanti a un membro, questo è visibile dalle classi che stanno nello stesso package, ma non da classi che stanno in altri package. Se io metto un membro pubblico, però, in una classe che ha una visibilità di package, esattamente come nel caso precedente, questo membro è visibile da metodi che stanno nella stessa classe, metodi che stanno nello stesso package, ma non metodi che stanno in altri package. infine, andando a vedere il caso di classi pubbliche che hanno membri pubblici, questi sono ovviamente visibili all'interno della stessa classe, visibili all'interno di classi dello stesso package e ovviamente anche visibili a classi che stanno in altri package. quindi questo è sostanzialmente quanto è definito in java riguardo alle regole di accesso. Ripeto, abbiamo due livelli di incapsulamento, il primo livello, quello ovvio, è quello delle classi in cui posso applicare i due modificatori, pubblico e privato, quindi mi dicono se posso vedere i membri soltanto nella stessa classe o all'esterno. E il secondo livello è quello di package. Il package ovviamente introduce un livello ulteriore che è la visibilità di package, cioè una visibilità che è limitata ad altre classi che stanno nello stesso package. La visibilità di package è quella che viene attivata quando non si inserisce né la parola chiave public né la parola chiave private. In questo caso la visibilità è limitata al package in cui la classe è definita. per cui a livello di classi la raccomandazione e l'approccio solito è quello di andare a definire tutti gli attributi privati e mettere pubblici i metodi che possono essere utilizzati dall'esterno per andare a accedere in maniera mediata agli attributi. Per quanto riguarda i package normalmente noi andremo a rendere pubbliche le classi che effettivamente hanno un'utilità generale ed eventualmente a rendere con visibilità di package le classi che hanno un'utilità puramente interna usate esclusivamente dalle classi che fanno parte di quel package. Con questo abbiamo chiuso sostanzialmente la panoramica sugli aspetti di visibilità all'interno di Java e abbiamo visto come gli strumenti possono essere utilizzati per andare a limitare la visibilità e quindi sostanzialmente a dare una realizzazione pratica a quello che è il principio di incapsulamento.